Aspetta, aspetta, hai cliccato questo video, sì, ma a me non sai che cos'è un retracing? Ma certo che lo sai, ma certo che lo sai, certo che lo sai, tanto hai cliccato questo video e hai detto Wow, io mi scorcio di giocare a Fortnite, anzi è brutto vedere Fortnite così com'è, senza niente, hai ragione, hai ragione Facciamo muovere le piante, dai, quindi aumentiamo un po' la grafica, facciamo riscaldare la scheda vite Solo perché vuoi vedere le piante che si muovono, questo vuoi, ok, va bene Allora, innanzitutto, benvenuto, seconda cosa, già siamo arrivati alla seconda, va bene Allora, andiamo un attimo su impostazioni, sì, su impostazioni Andiamo un attimo su impostazioni E vediamo un attimo Prima di tutto, dobbiamo vedere se possiamo mettere questa modalità E vedere se la tua scheda video supporti il retracing Allora, lasciamo perdere questo, tanto queste cose sono vostre, io non faccio niente La risoluzione è quella, il limite frame è quella, basta, io penso solo al retracing Allora, questa è la grafica avanzata Qualità grafica, grafica, ok Allora, se adesso attivo il DirectX 12 Conferma un attimo Applica Un attimo su impostazioni devo andare Dov'è? No, 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 sembra che... Allora, andiamo su GeForce Experience Un'applicazione che noi abbiamo scaricato, sì, perché se puoi giocare con il retracing Dovresti per forza mettere questa GeForce Experience Che ti permette di ottimizzare il gioco Quindi scarica anche quella, mi raccomando Andiamo un attimo su dettagli di Fortnite Perché, ecco Eccolo qua Eccolo Come ottimizzare il gioco Bene, ottimizza Perfetto Allora, ora vengono utilizzate le impostazioni ottimali Perfetto Ora vado un attimo su Fortnite Mi pare sì, così Ok, chiudo un attimo Andiamo su impostazioni Ok Mi sembra che adesso posso usare il retracing Anzi, dovrei un attimo chiudere il gioco Ok, esco un attimo Conferma Sì, adesso lo riapro Dov'è? Gioca Avvio Ok Siamo tornati su Fortnite In impostazioni Eccolo Il retracing, signorini Eccolo qua Ora, attivo un attimo questo Vediamo se posso Ok Retracing Oddio Ok, ok Ora lo attivo, signori Io lo attivo Conferma Bene Occlusione ambientale Facciamo sul medio In un'azione globale Ridotto Qualcosa del genere Applica Ok Io sono pronto A farmi una bella partita Sì Cominciamo Adesso Modifico un attimo Faccio un singolo Giochiamo Ok Vediamo un attimo Wow 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 Ah 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 Oh Oh Ok Spazio per saltare Connessione un pochino Lenta Faccio una cosa Questo è Cioè questo è il retracing Questo è Non vedo Le piante almeno Si muovono L'acqua è bellissima Bellissima l'acqua Molto bella Guardate che bello Guardate Bellissimo Ma è bellissimo Fenomenale Ma è fenomenale Guardate un po' Che bella luce Oh yeah Già La luce è molto bella Si Signori Il ray tracing È fenomenale Bellissimo Guardate anche gli spari Oh no C'è fenomenale L'albero che si muove Come ho detto Come ho menzionato All'inizio L'albero che Volete che Si muova Eccolo Attivate il ray tracing Ora faccio un'altra cosa Una bella cosa Una bella cosa La grafica Dov'è Dov'è Ecco Riflessi Elevato Epic Vediamo un po' Così un'albindale Elevato Chi se ne prega Ma No 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 Bello Molto bello Noo Noo Madò Bellissimo Che bello L'albero che si muove Buon Natale Signori Buon Natale Buon Natale Dai Ma è fenomenale con il ray tracing fanculo a quello che mi ha detto che non può come ASI come ASI no gli 80 fps gli 80 stupezza di merda sciopore di livello 1 ma vattene via vabbè ormai si ok avete visto già tutto signori questo è tutto grazie questo coglione di livello 1 ma chi ti credi di essere io stavo registrando non potevo ucciderti va va non ha la lobby si posso usare il ray tracing quindi sapete già come attivarlo quindi se ti è piaciuto questo video se ti è stato utilissimo lascia like e iscriviti al canale se vuoi sbattermi la porta in faccia perché non puoi attivare il ray tracing scrivimelo nei commenti oggi abbiamo finito si spero ok grazie a tutti ciao